dal Vangelo secondo Giovanni in quel tempo Gesù disse io sono il buon pastore il buon pastore dà la propria vita per le pecore il mercenario che non è pastore al quale le pecore non appartengono vede venire il lupo abbandona le pecore e fugge e il lupo le rapisce e le disperde perché è un mercenario e non gli importa delle pecore io sono il buon pastore conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me così come il padre conosce me e io conosco il padre e do la mia vita per le pecore e ho altre pecore che non appartengono a questo recinto anche quelle io devo guidare ascolteranno la mia voce diventeranno un solo gregge un solo pastore per questo il padre mi ama perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo nessuno me la toglie io la do da me stesso ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo questo è il comando che ho ricevuto dal padre mio parola del Signore la quarta domenica di Pasqua è sempre la domenica del buon pastore o anche del pastore bello come si potrebbe tradurre dal greco perché è bello non è solo qualcosa di estetico nella scrittura ma ha sempre a che fare con il bene il bello e il buono sono sempre uniti ciò che è buono e bello e ciò che è veramente bello è anche buono ecco perché questo pastore che con cui si identifica Gesù che è un'immagine molto cara anche all'iconografia cristiana a volte forse un po' sdolcinata nel nostro immaginario ma per la Bibbia il pastore che erano considerati tra l'altro malissimo nella società del tempo perché erano gli emarginati erano quelli che stavano a contatto impuri a contatto con le pecore con gli animali venivano considerati anche dei ladri eppure la Bibbia prende questa immagine del pastore per applicarla al re il re è il pastore del suo popolo e quindi anche a Dio che è il vero pastore del suo popolo di cui i pastori le guide di Israele dovrebbero essere l'immagine come lo devono essere i pastori della chiesa ma il vero pastore di tutti è soltanto Gesù è lui davvero il pastore buono e perché buono perché si chiama si autodefinisce buono contraponendosi appunto al mercenario perché al mercenario non gli importa delle pecore invece al buon pastore sì al buon pastore importa di ogni pecora dell'una che si perde e delle 99 che restano o anche viceversa a ciascuna pecora e va l'amore e l'attenzione del pastore e non è solo un amore teorico romantico io do la vita per le mie pecore io do la mia vita questo è essere un pastore a cui importa la vita delle pecore perché per loro ha dato la vita e continua a darla dice Gesù per questo il padre mi ama perché io do la mia vita per le pecore per poi riprenderla di nuovo la resurrezione e su questo su questa strada su questo cammino anche noi possiamo imparare a donare la vita per poi riaverla di nuovo in dono e questa è la nostra speranza la speranza della Pasqua che una vita donata è una vita piena è una vita felice senza dono senza la scuola l'apprendistato la pedagogia del donarci perché non è facile sempre vivere lo stile del dono ogni tanto qualche gesto eroico qualche gesto buono tutti lo fanno non c'è bisogno neanche di essere cristiani per essere buoni per donare ma uno stile che di vita quotidiana che si fa dono ecco lì allora abbiamo proprio bisogno di Gesù ma sentiamo che solo così la nostra vita diventa piena bella sensata con un orizzonte una speranza nuove il Signore ci invita alla strada sulla strada del dono di noi stessi perché ci promette che ogni dono ogni minuto della nostra vita donato non andrà mai perduto io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo e anche per ciascuno di noi sarà pienezza di vita se la sapremo donare